La seconda partita è la categoria Allora, premiazione Giorgio Setti, la coppa, tutto quanto quello che riguarda Prima classificata della Dio Noemi, Unione Sportiva, Cornacci Siete che su per terra, lì davanti ai piedi? Sì, quindi tutto quanto per terra, così perfetto Eccola qua, al secondo posto per la quarta, Caloi Laura E terza classificata per la quarta, Cristoforetti Sara E Cristoforetti Sara, ecco queste sono le tre classificate della categoria Sono 20, 10 femminile, al quarto posto c'era classificata Raus e Stefania della Quarta Sono i miei di Sanna della Cornaccia, Cristo e Sononi, Arianna Per la quarta, sesta classificata Bravissime, guardate le fotografie Vi ricordo che... Eccoli Allora, attenzione, primo classificato Sarpidelli Gianluca del Tione, eccolo qua Compilenti, categorie esordenti di E.C. Maschine Preparate il cartellino Avanti Mario Antolini, sesta società del Tione Avanti Terzo classificato Francesco Dalry del Val di Nedro Eccoli qua, un bel sorriso per le fotografie Complimenti, bravissimi Siete venuti anche da molto lontano Veramente, grazie per la vostra partecipazione Un bel sorriso Ormai siete perfettamente riposati E dal prossimo anno comincerà ad aumentare Nella distanza di gara Mantenete l'aria in fila indiana Avanti, avanti Bravissimi, complimenti ancora Grazie 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 Grazie